Anch'io ho le mie preoccupazioni, le mille paure indotte dalla crisi economica, l'ansia per l'educazione dei figli, ma anche la gioia di vederli crescere e di attraversare la vita insieme e poi la fatica di ritagliare un po' il tempo nel weekend per sistemare la casa, ma anche magari cogliendo l'occasione per rascostarsi di più reciprocamente. Come puoi immaginare tantità, la nostra non è una famiglia perfetta. Ogni tanto vi sticciamo e ci si arrabbia, capirà quattro fratelli maschi, ma riusciamo anche ad aiutarci a scherzare insieme e a mettere in comune i nostri problemi e i nostri sogni piccoli e grandi. Non so padre, non abbiamo tempo da offrirle stasera, se non le nostre domande, le nostre aspettative.